C'è sta sta signora che è uguale a Gargamella, ha una saguilina piena di nei, è alta 1,20, mezza pelata e ha parecchi peli sulle caviglie e praticamente sta spolverando i soprammobili di casa, quando a un certo punto gli va l'occhio su un soprammobile che sta dietro agli altri allora lo prende e si rende conto che è una lampada, gli dà una spregatina per spolverarla e esce un genio da questa lampada che gli dice grazie per avermi svegliato da questo mezzo secolo di sonno, ora io ti ricompenserò con un desiderio e vada bene il desiderio sarà solo uno perché in questo periodo c'è molta crisi quindi io posso soddisfare un desiderio alla volta questa signora, ma va bene genio, sai genio io sono una donna che ama il prossimo, una donna amorosa, una donna altruista quindi lo sai che cosa ti chiedo genio, la vedi questa cartina geografica, qui c'è l'Iraq, qui c'è la guerra da mille anni per favore fai fessare la guerra in Iraq e il genio, porca miseria signor, ma mappa, certo mi ha chiesto piccolo il desiderio ma non mi può chiedere qualcosa dei più semplici, ma un desiderio così mi costa un sacco d'energia e sta signora, si va bene genio, in fondo hai ragione, allora guarda genio ti chiedo di trovarmi un uomo che mi ami per come sono, che gli piaccia per come sono fatta senza cambiare nulla e il genio, senta mi dia un po' sta cartina va